C'è una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate, e una donina piccola così, con due ore per guardare, e c'è un omino piccolo così, che torna sempre tardi dal lavorare. Finalmente la mia nuova casetta. Senta signora Andaglio, venga un po' qui, ma guardi che la porta non si apre, ha capito? Qui non funziona niente. Come non si apre? Visto che si è aperta. Ma, ma lei ha mattito, si apre? Ma voglio indietro i miei soldi, ha capito? E subito? Ma guarda te che mi doveva capitare, ma bacia pirate. Dai scappiamo! Franca, non preoccuparti, non buttarti nella misca, cerca un professionista serio. Io, Alessandro, della ditta non solo fuori, produco casette in legno, da giardino, di varie metrature, ma anche portatrezzi, gazebo e arido giardino. Sedie, sdraio, di varie tipologie. Il tutto per soddisfare ogni vostra esigenza. Ecco, Franca, la sua nuova casetta. Eccolo è chiaro. Ma finalmente! Adesso sì che ho una casetta come Dio comanda. Grazie, Alessandro. Dovere. Scegli il meglio, scegli non solo fuori. Dimenticavo, Alessandro Strigini lo trovate a San Colombano Certenoli, località Perella. Alessandro, non solo fuori, dai! Amore mio non devi stare in pena, questa vita ne ha caffè, non voglio volare tanto male. Quanto come sono?